Assessore, un progetto di cura del bene comune dalla valenza fortemente educativa? Sì, un progetto importante che giunge alla quarta edizione in Regione Marche, ci sto a fare fatica, facciamo un progetto a punto comune. È un modo innanzitutto per coinvolgere i giovani nella vita anche sociale e soprattutto attraverso delle azioni di cittadinanza attiva che hanno poi un concreto riscontro appunto sul territorio, quindi loro dovranno prendersi cura di quelli che sono magari i luoghi più importanti dei territori in cui vivono e sporcandosi le mani di cercare appunto di rimetterli, di farli ritornare al loro splendore. Grazie comunque al contributo di Regione Marche sarà possibile quindi erogare un piccolo contributo e quindi anche un modo per facilitare e per stimolare i giovani appunto a prendere contatto con queste realtà grazie quindi alla presenza anche di maestri d'arte, quindi di veri e propri operatori che metteranno appunto a disposizione il loro sapere e per trasmetterli appunto ai giovani. Ed è un modo per riportarli appunto alla socialità perché purtroppo oggi l'utilizzo a volte anche troppo insistente delle tecnologie e li allontana, li allontana anche proprio dalla manualità, dalla gestione delle cose con le mani e invece li porta appunto troppo magari ad un uso della tecnologia. Invece così anche un modo per ritrovarsi tra di loro e per riprendere anche quei rapporti umani con un obiettivo preciso e specifico che è quello appunto di ridare luce magari anche appunto a dei luoghi della loro vita. E' buona anche la risposta mi sembra dei comuni. Sì c'è stata una grandissima adesione per questa edizione anche della 2023 da parte dei comuni e quindi questo dimostra anche una grande sensibilità da parte delle istituzioni locali perché sicuramente hanno perfettamente compreso che è un progetto che veramente fa bene ai giovani e quindi li stimola in maniera particolare. Il progetto mira a coinvolgere i giovani in quella che è la fase estiva del dopo scuola e sono squadre da dieci ragazze coordinate da un tutor e poi c'è un handyman che è una persona che viene dall'associazionismo, dalle nostre associazioni e si occupano insieme di curare i beni comuni cioè di occuparsi di tutto quel patrimonio che è delle nostre comunità che va comunque su cui va fatta manutenzione. Il coinvolgimento dei ragazzi ovviamente è un coinvolgimento di senso perché insieme con un gruppo di persone si occupano della comunità danno qualche cosa alla loro comunità e questa è la grande scommessa che abbiamo fatto diversi anni fa la Regione Marche e l'Ufficio Politiche Giovanili ci ha seguito in questo anzi ci ha stimolato a fare sempre meglio e quindi da qui questo importantissimo progetto.